I telefoni li togliamo, bravi! Quello è mio figlio, quello piondo, il mio terzo figlio, già dieci anni, quell'altro anche. Vi ci ho detto, il sogno di uno scienziato è fare qualcosa che sia utile, che sia giusto. Oggi sicuramente per noi l'ha fatto, ma io aggiungerei anche che è stato molto divertente. Grazie.